Ciao a tutti. Quella che stiamo vivendo è una settimana molto importante. Infatti oggi si celebra la giornata nazionale per la sensibilizzazione contro il buonissimo e il cyberbundismo, mentre domani celebriamo invece la giornata per la sicurezza nella rete. Infatti in questa settimana ci saranno anche varie iniziative, convegni, incontri proprio su questi tempi. Noi come istituto quest'anno partiamo con un progetto, un bel progetto che vi rende protagonisti voi ragazzi. Infatti troverete da oggi in tutti i piani una cassettina delle poste. La nuova iniziativa della nostra scuola consiste nella predisposizione di queste cassette della posta in diverse aree del nostro istituto. A cosa servono? Servono a voi ragazzi per poter lasciare in caso di necessità alcuni vostri messaggi indirizzati a noi del team Bullismo. Possono essere anche messaggi per la richiesta di semplici consigli per poter star meglio all'interno della nostra scuola, ma anche per segnalare in assoluta libertà e discrezione eventuali episodi che vi fanno star male legati in queste situazioni un po' più complesse e complicate. La scuola offre un team di insegnanti con rispicati che si prendono cura dei ragazzi e delle relazioni che loro instaurano a scuola. È un team di supporto che risponde alle esigenze e alle domande sia dei nostri ragazzi ma anche degli insegnanti, proponendo degli interventi mirati nelle classi ma anche dei progetti del territorio e sul territorio. Oltre a usare le cassette della posta potete contattare gli insegnanti personalmente oppure scrivere all'indirizzo teambullismo-inaudibassano.edu.it Tutti noi ci occupiamo di voi perché possiate stare bene a scuola. Stare bene significa principalmente sentirsi a proprio agio. Questo dipende molto dalle relazioni che noi creiamo con gli altri, dal rispetto che diamo o che chiediamo. Pensate che ogni relazione con gli altri può alimentare una forza o una debolezza dentro di noi. E voi cosa preferite? Grazie a tutti! Grazie a tutti!